Ti chiamerebbe Andrea perché il tuo nome non lo possiamo dire, hai fatto parte di una setta. Io sono stato sei anni all'interno di questa setta. Tu come ci sei finito? Ho cominciato ad avvertire dei forti dolori alla schiena e nonostante le analisi mediche non c'era un quadro chiaro di questi dolori. E questo mi ha portato poi a deprimermi, è venuto a trovarmi un amico che non vedevo da un po'. Fu lui a portarmi per la prima volta in questo casale isolato. La prima immagine che ho appunto del santone, la convinzione era che lui liberasse dal male soltanto con quel segno. A quel primo incontro cosa succede Andrea? Tu entri a far parte della setta? Sì, diciamo che questa setta rodava intorno a un santone, decideva tutto di noi, l'alimentazione, chi potevamo sentire, le comunicazioni. Noi ci inginocchiavamo fronte a lui. Aveva tra i discepoli appunto più stretti, aveva delle discepole preferite, erano donne. Mi somministrano una pillola al giorno. E che cos'era? Credo che sia la tasse di droga sinceramente. Noi non facevamo domande, noi eravamo talmente soggiocati da questa figura e da tutto questo clima. E quanti eravate? Una ventina di persone, perché lui predicava appunto il suo regno. Per il regno del santone dovevamo mettere noi i soldi, in che modo anche chi non li aveva, con il lavoro. Ero convinto di fare del bene, di costruire un tassello appunto di questo regno. Questo regno che regno era? Di cosa era fatto il regno? Era un regno di giustizia, perché questo santone decideva delle nostre vite, in virtù dei collochi che lui faceva, diceva di fare con gli angeli. Noi ci sentivamo roba sua e questa era la trappola psicologica della setta, ecco. E quindi quando scatto un meccanismo che ti permette di uscirne piano piano fuori e di liberartene? Sono riuscito a disobbedire appunto al santone e a chiamare i miei genitori e chiedere un aiuto a loro. Quella è stata la mia liberazione. E' uscito fuori dalla setta da tre anni. Sì. Esiste ancora? Esiste ancora, sì. Ho paura. Non voglio più che quelle persone abbiano notizie di me, della mia vita. Preferisco non farmi, non dare alcun indizio. Non solo. Voyo. Sono riuscito. Avvile a te.